ciao a tutti allora spero che siate pronti perché oggi vi voglio parlare di questo correttore liquido della sien si tratta del liquidi concealer perfect finish questo è il colore mio è il medio la quantità è un 8 ml costa 1 euro e 29 e state attenti perché con la spugnetta e anche la texture è la copia perfetta di quello della maybelline l'anti age ma costa molto molto meno e soprattutto è facilmente reperibile allora correttore che vi ho detto tonalità media e come si vede l'ho proprio finito questo qui allora dato che l'ho finito ovviamente rimasto lo swatch allora cosa dire di questo correttore intanto che facilissimo d'applicare perché basta schiacciare e applicare con la spugnetta si stende bene è un leggero effetto luminoso quindi perfetto in estate che non vado applicare tanto prodotto ma voglio comunque dare un po di luce per nascondere un po le borse e le occhiaie si fissa bene con la qualunque cipria ma anche da solo comunque sia non tende a colare non si sposta e da un effetto naturale luminoso copre leggermente le imperfezioni ma copre leggermente non va nelle pieghette per me questo è fantastico e soprattutto è un'ottima copia davvero molto valida di quella della maybelline che a volte si trova a volte no e a un prezzo superiore. questo lo volevo riprovare ma l'ultima volta che sono stati in negozio non l'ho trovato ne ho provati altri comunque sia credo che per un prodotto così lo costi perché un euro e 29 sia davvero da provare se vogliamo proprio trovare una cosa negativa è che una volta arrivati più o meno alla fine più o meno qui non si riesce a prelevare questo prodotto quindi io vado a schiacciarlo a piegarlo infatti ha già le pieghine un po perché l'ho voluto usare fino alla fine e ve lo straconsiglio lo consiglio soprattutto a chi ha pochi problemi di borse e occhiaie oppure chi per chi tende a truccarsi poco ma vuole solamente dare un attimo di luminosità allo sguardo questo è davvero molto valido. allora fatemi sapere se vi sono stata utile con questo scoperta o se lo sapevate già tutti quanti tranne io comunque sia se avete provato questo prodotto fatemelo sapere e se vi è piaciuto il video mettetemi un like iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella qui sotto così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao ciao